Va alla vastese lo scontro al vertice del Girone F. Al Giovanni Paolo II di Matelica i ragazzi di Colavitto si impongono con il più classico dei risultati al termine di una gara non semplice ma che i biancorossi hanno interpretato al meglio. Per gli aragonesi resta il primo posto in classifica, a braccetto con l'Olimpia agnonese ma soprattutto la consapevolezza di poter recitare in questo torneo un ruolo di primo piano. La squadra di Colavitto scende in campo quasi al completo, l'unica defezione è quella del difensore capitano Allocca sostituito dall'ultimo arrivato Bartoli che lascerà poi il segno. Nelle Matelica assenze pesantissime con il forfè del bomber ex Pescara Vincenzo Esposito e del centrocampista Borgese. Si comincia davanti a spalti gremiti con numerosa e calorosa rappresentanza vastese. La formazione ospite in maglia biancorossa per dovere di ospitalità inizia in modo prudente con i locali a cercare di fare subito la partita ma con i portieri praticamente mai seriamente impegnati. All'ottavo prima emozione di marca locale con un cross dalla sinistra di pera per Degano che viene anticipato al momento della conclusione da Campanella. Al diciassettesimo arriva la risposta della vastese con Prisco che dopo una buona azione personale mira all'angolino con Marcantonini che para. Miracoloso però l'intervento sul capovolgimento di fronte delle portiere della vastese Russo che con i piedi nega la gioia del gol a Manuel Pera. Al ventisesimo lo stesso Pera lanciato in contropiede viene affrontato fuori aria di rigore da Russo e poi termina a terra con il direttore di gara che lascia però proseguire andando poi ad allontanare dalla panchina locale il dirigente accompagnatore del Matelica. Per proteste protestano anche i tifosi e i giocatori di casa ma il fischietto Campano dice che non c'è fallo. Alla trentaquattresimo punizione di Degano e palla in aria per Galli che quasi in scivolata conclude debolmente fra le braccia di Russo. Al quarantaduesimo tiro cross di Bartolini con il portiere ospite costretto a respingere con i pugni. Ma il dolce arriva nel finale di primo tempo quando Prisco di testa su punizione calciata da Fiore mette alle spalle dell'incolpevole Marcantonini. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 di inizio gara e con il Matelica in attacco. Al settimo Mensa salva su Baldinini mentre al decimo è Russo a respingere con le mani su conclusione ravvicinata di Pera. I marchigiani attaccano senza quasi soluzione di continuità. La vastese cerca di sfruttare il contropiede ma gli spazi per la formazione abruzzese sono ristretti. Al diciassettesimo per la squadra di casa ci prova ancora Pera ma la sua conclusione è parata da Russo. Passa qualche istante Pera cross al centro dell'area piccola per Galli che arriva in scivolata con un attimo di ritardo. Al diciottesimo Di Maio già Monito tocca forse il pallone con la mano ma il direttore di gara segna la semplice punizione ai padroni di casa non andando a sanzionare con il giallo per la seconda volta il giocatore marchigiano. Il finale di gara vede gli assalti disordinati dei padroni di casa che al trentasettesimo restano in dieci per il secondo giallo sventolato questa volta a Di Maio per fallo di gioco su Felici. In dieci il Matelica rischia di andare ancora sotto ma al quarantesimo Prisco di testa si divora il 2-0 davanti a Marcantonini. Il finale è ancora una volta dolce così come era stato nel primo tempo quando Bartoli al quarantatresimo va a siglare il gol del 2-0 che chiude definitivamente la gara e in maniera trionfale per la squadra del presidente Bolami. Con la Vitto prova di forza della Vastese in casa del Matelica. Formazione costruita per vincere il campionato. Oggi avete giocato anche da Stuzia e siete stati bravi a un pizzico fortunati a trovare il vantaggio nell'ultima azione del primo tempo poi avete sofferto un po' all'inizio di ripresa e poi siete usciti fuori dalla distanza. No, hai fatto un'analisi giusta. Queste sono partite difficili che un episodio può girare a favore come è girato a fine primo tempo però sulle palle inattive ci lavoriamo quindi all'inizio del secondo tempo abbiamo un po' sofferto la loro forza fisica, la loro vemenza. Abbiamo retto per un quarto d'ora all'inizio del secondo tempo poi la squadra ha ripreso il pallino del gioco. Sono contento perché i ragazzi li vedo sempre vogliosi, in allenamento li vedo che comunque si applicano perché per me questi segnali sono segnali importanti. I ragazzi che hanno chiamato Colavitto sotto il settore distinti al Novantunesi? Non so, le hai sentite, pure io le ho sentite, diciamo che sono un po' schivo però stanno nel mio cuore, li saluto sempre da lontano, non ne vogliono a male che non vada sotto la curva ma li saluto sempre, loro lo sanno. Ovviamente avevo chiesto un regalo ai ragazzi, me l'hanno fatto con tutto il cuore anche perché sanno bene i ragazzi sia mentalmente che fisicamente oggi l'hanno dimostrato dalle cinque parti che abbiamo fatto e sicuramente le devo ringraziare e devo contracambiare con un regalo da parte mia a loro. Sapevamo che la Matelli che è una squadra favorita del campionato siamo di qua a fare la nostra partita e sicuramente c'è anche da soffrire soltanto loro sono consapevoli che ogni domenica c'è una sofferenza in corso loro lo sanno, stanno bene, che deve dire? Bisogna dire soltanto grazie a questi ragazzi che si impegnano domenica per domenica. I tifosi lo sanno, li conosco tutti, fanno parte del mio cuore sono un pezzo del mio cuore, li amo lo sanno però deve sempre comportarsi idunamente sia dentro che fuori.